Bosco, primo pezzo del sentiero per la Gianetti e fra poco usciamo dal bosco e stiamo uscendo dal bosco, dalla Gianetti primo pezzo del sentiero ecco qua Barbacan e l'Albadile Torelli, Sertori, tutta la Val Porcellizzo adesso passiamo al passaggio delle Termopili che è questo qui caratteristico passaggio del sentiero per la Gianetti ok stiamo arrivando al più il pianone fatti circa 800 metri di dislivello positivo per l'area sotto i 50 e ne mancano altri 5,50 600 eccoli guardate là Cengalo Sertori Pizzi Gemelli Badile Torelli dentro della vecchia Porcellizzo la Cella Gianetti sotto a Badile e la Torelli lì e questo è il pianone e questo è il pianone e questo è il pianone è il pianone e questo è il pianone che si è il pianone è il pianone e questo è il pianone è il pianone è il pianone è il pianone che si è il pianone che si è il pianone è il pianone Grazie a tutti.